Buonasera Quindi non so se potevo stare lì, che tanto lei quella la salutava, o seppure avrebbe fatto tutto di niente, poi sarebbe andato a lei, infatti è l'altra. Questa ragazza gli fa i franzoni, questa domina sulla prima prossima, quando finisce tutto il fare, voi mi riporrevi a vedere come è, però non so seppure qua prima da... Grazie a tutti.